Tomasetti, una tragedia questa mattina all'università. Una ragazza, 23 anni, ha perso la vita mentre si accingeva ad intraprendere un'altra settimana di vita normale studentesca. Sì, una tragedia. Io mi unisco al dolore immenso, diciamo, della famiglia. Da rettore di questa università, da genitore, ho trascorso due ore insieme a loro all'ospedale di Curteri, dove è stata portata la sala mortuaria e sono state ore strazianti. Vedere i loro dolori, tra l'altro, di grande compostezza, di grande amore in confronto della figlia come quello del fidanzato presente, veramente sono immagini difficili da dimenticare. Dal punto di vista, diciamo, della dinamica, vogliamo rassicurare, nel senso che l'area è un'area d'uso pubblico, quindi è ovviamente gestita in concessione da chi gestisce poi le violazioni del codice della strada e quindi il comune di Fisciano. Noi abbiamo un sistema di videosorveglianza che copre tutta quell'area, questo interno nostro, per cui le immagini sono disponibili, dove si ricostruisce purtroppo in maniera molto chiara la dinamica dell'incidente, degli errori umani che sono stati commessi e noi li abbiamo messi a disposizione gli inquirenti. Quindi si farà verità, se si accertà la verità, questa è l'unica cosa concreta che possiamo fare rispetto alla famiglia. Chironia della Sorte, l'altro, la ragazza non è arrivata lì neanche con i mezzi pubblici, è arrivata a compagnia da fidanzato, l'aveva lasciata pochi minuti prima, aveva attraversato, è veniva da Fisciano e proprio nell'ingresso del cancello, appena marcato il cancello è successo questo misfatto. La comunità accademica in segno di lutto e di partecipazione al dolore sospende oggi dalle 15 alle 16 tutte le attività. Altre iniziative, spenta la radio, la tv interna dell'università, altre iniziative? Sì, vabbè, il giorno dei funerali sicuramente sospenderemo le attività didattiche, faremo delle manifestazioni per oggi, purtroppo è il giorno del dolore, poi dopo ci sarà da pensare a come ricordare questo pezzo della nostra comunità che è volata in cielo. Io sinceramente, è veramente una dinamica assurda e quindi credo e spero che il più rapidamente possibile tutti possano avere anche, diciamo, coscienza, diciamo, di questo incidente che è accaduto e occorso e dobbiamo anche mandare, diciamo, un messaggio di vicinanza alla famiglia, che sono, ripeto, gente che veramente mi ha colpito in un dolore così straziante e così profondo, le parole che hanno utilizzato, le parole anche di, come dire, diciamo, nei confronti della loro figlia, è straordinario, purtroppo. Le immagini invece sono state consegnate agli inquirenti per le indagini? Sì, alla Polizia Carabiniera il magistrato fa le indagini, ma diciamo, è tutto sin troppo chiaro.